In una maniera tale che indossando quel vestito noi non somigliamo a quelli del mondo, ma indossando quel vestito noi ci differenziamo da quelli del mondo, in modo tale che gli altri dicono ma vada, perché tu vesti così? Guarda io vi dico una cosa, e questo fratello è cosa di tutti i giorni, che quando per esempio noi usciamo, andiamo a scuola e si incontra qualche fratello, qualche sorella, subito chiedono che sei fratello, che sei sorella? Dici sì, perché? Ti ho capito da come vesti, la stessa cosa quelle del mondo, quelle del mondo stesso, ma che sei per caso evangelica? Evangelico? Dici perché? Perché vedo che tu, insomma, vesti e parli diversamente, vedete, voi siete la luce del mondo, il sale della terra, se il sale diviene insipido, con che cosa si darà si parla? Se io mi vesto e parlo come chi lo dà un mondo, dove sto dando la testimonianza di Cristo? Amen. E allora vedete, ci deve essere, vedete, un comportamento nostro particolare che sia l'opposto di quelli del mondo. Amen, gloria a Dio. E ripeto, non è che, fratelli, se noi ci vestiamo in una maniera decorosa, non lussuosa, non troviamo mogliere o marito. Se ciò è uno stesso. Fratelli, non è il labuto che fa un monoco, come si vuole dire? Amen, gloria a Dio. E allora, similmente, le donne che si vestono in modo decoroso, con vere condi e modestia, e non di trecce o d'oro, o di perle, o di abiti costosi. Amen? Perché, fratelli, quello è un disonorare Dio. Stasera dice il capo signore, ma che ne sei? Così si pensava a dire il signore. Dici perché? Dice il signore, ma se io sono nato in Tana Mangiatoia? Ma se io avevo una tunica, è capace che ne avevo solo una. Eh? Alleluia. Alla va, come ti? Vedete, lui non è vissuto nel benessere. Alleluia. Nell'eleganza, assolutamente. Quindi, se noi, vedete, viviamo in maniera diversa, allora noi, automaticamente, senza accorgerne, disprezziamo Dio. Il signore ci guarda, dice, guarda. Io quando ero picciriglio, quando ero giovanotto, vestito così, guarda questi come vestono. Ma mamma, la madonna che viene tanto decantata, che pensate che aveva i rizzi, era in cianciano e data d'oro. Ora, ecco, lo spirito dice espressamente che negli ultimi tempi alcuni apostateranno dalla fede, dando ascolto a spiriti seduttori, a dottrine di demoni. vedete, negli ultimi tempi, perché una volta si vestiva con più modestia. Oggi, invece, no. Se fanno a gara, vuoi essere più leganti, tanto maschi che femmine. Ed è sbagliato, bisogna essere ordinati e puliti. A me, gloria a Dio. Perché, vedete, se noi indossiamo, tanto maschi che femmine, dei prodotti, dei vestiti costosi, allora noi mettiamo in difficoltà i poveri. Perché dice, guarda, quel fratello, quella sorella, un pastore, sono vestiti in quel momento, come faccio ad andare in chiesa? Io mi vergogno. Ma se le anime nuove, e soprattutto i bisognosi, che poi, in questo tempo, fratelli, mi pare che i bisognosi sono una vecchia o sei di chi dirà che stanno bene. Amen? Quindi, a maggior ragione, oggi, noi dobbiamo dare l'esempio, e dobbiamo invogliare quelli che non hanno tante possibilità di venire in chiesa e di essere vestiti alla pari di quelli che potrebbero avere dei vestiti più costosi. Amen? Così non si sentono, diciamo, in difficoltà. Amen, gloria a Dio. Perché ha disagio. Amen, gloria a Dio. Allora, vedete, ecco perché l'Apostolo Paolo scrive così, il Signore gli fa scrivere l'Apostolo Paolo. E non solo l'Apostolo Paolo, perché, ripeto, le stesse cose le dice, se siete d'accordo, e lo dice pure l'Apostolo Pietro. Le stesse cose, gloria a Dio. Manco se fossero messe d'accordo. Alleluia. Amen? Allora, similmente, allora, ma di buone opere, come conviene a donne, guardate, come conviene a donne che fanno professione di pietà. Che vuol dire che professano la pietà. Amen? Quindi le donne devono professare l'amore, la pietà, la misericordia. Eh? Amen, gloria a Dio. Allora, se invece, vedete, si vestono diversamente, con abiti costose e con gioielli d'oro, mettono in difficoltà, ripeto, gli altri che non hanno delle possibilità tali da poter stare al loro fianco. Alleluia. Amen? Gloria a Dio. La donna impare in silenzio con ogni insottomissione. Alleluia. Quello, vedete, che sta succedendo in quest'ultima tempo. Che dice l'Apostolo Paro? O lo Spirito Santo dice espressamente che negli ultimi tempi alcuni apostateranno dalla fede. Apostatare la fede vuol dire allontanarsi dalla verità. Questo vuol dire apostatare. Amen? Quindi quelli che non mettono in pratica queste cose, eh? Si sono allontanati dalla fede. Due. Più due. Fa qua giù. Amen? Alleluia. Quindi, la donna quindi di buon'opera come conviene a donne che fanno professione di pietra. La donna impari in silenzio con ogni insottomissione. Alleluia. Impari in silenzio con ogni insottomissione. Fratelli, anche nelle vostre case, voi donne, non dovete fare i santi quando si dà chiesa. E quando si dà a casa cambiate diventate diventate l'opposto. Amen? Bisogna, ecco, come dice la donna impari in silenzio con ogni insottomissione sia in chiesa che a casa. Amen? Gloria a Dio. Alleluia. Non permetto alla donna di insegnare. ecco, guardate, negli ultimi tempi dice lo Spirito Santo, alcuni aposteteranno dalla fede dando ascolto a spiriti seduttori e dottrine di demone. Ecco per cui il Signore mi ha fatto passare dal capitolo 2 al capitolo 4. faccio. Alleluia. Perché guardate, ci sono, eh? Ora ditemi, dice che io non è parato, io non è parato. Alleluia. Amen? Guardate, gloria all'altissimo. Ecco perché, vedete, ci stanno scappercette a tutti i mogliere. perché ci sono delle donne che nonostante l'Apostolo Paolo dice non permetto alla donna di insegnare né di usare autorità sull'uomo ma ordino che stia in silenzio, ci sono invece delle donne che fanno le pastoresse. è una cosa abominevole e diabolica che la donna faccia la pastoressa. La donna stia in silenzio, impari in silenzio e sia sottomessa. Fratelli, se non c'è quest'ordine, questa disciplina, ciò significa che l'uomo non è in grado di ammaestrare, di insegnare e si fa comandare la mogliere e permette alla donna di insegnare. No, no, con la dottrina di Cristo con Fratelli di Luca non passano questi tipi. Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. perché appoggiano. Alleluia. Gloria all'altissimo. Alleluia. Quindi non permette alla donna di insegnare né di usare autorità sull'uomo ma ordino che stia in silenzio. Infatti è stato formato per primo Adamo e poi Eva e non fu Adamo ad essere sedotto ma fu la donna che essendo stata sedotta cadde in trasgressione. Tuttavia sarà essa sarà salvata partorendo figli attenzione partorendo figli se persevererà nella fede nell'amore e nella santificazione con modestia perché fratelli una donna può avere pure 50 figli dici perché sarà salvata partorendo figli può partorire pure 50 figli e non essere salvata perché partorendo figli eh deve essere deve perseverare nella fede nell'amore e nella santificazione con modestia no io sogna muggire l'anziano oppure sognare solo dell'anziano io mi distingue quindi ho il vestito meglio eh l'acconciatura meglio a sette tonangolo e fatta spesa va bene alleluia e state sedotta e non parlare e ti dire a tuo marito che un uomo da nulla che te lascia comandare e che ti permette di parare assai e di insegnare e invece la parola di Dio ci insegna l'opposto guardate gloria a Dio apostateranno dalla fede dando ascolto a spiriti seduttori a dottrine e come si vantano che hanno le pastoresse nelle loro chiese pastore dite alle pastoresse eh ma si stanno nella casa e mi si fanno la polizia la casa e mi stanno in silenzio imparino in silenzio come dice la parola di Dio amén gloria a Dio quindi guardatevi in difetto che ci sono in tua vostra casa invece di parlare assai nei confronti degli altri guardate la trave che avete nell'occhio alleluia e non guardate il bruscolo si c'è alleluia nell'occhio del tuo fratello alleluia fratello c'è da rabbrividire perché queste cose di cui parla l'apostolo Paolo noi le stiamo vedendo oggi ai giorni nostri nelle chiese cristiane alleluia e che dire alleluia questo guardate perché magari molti si sono dilettati nel leggere il capitolo 4 della prima di questa epistola a Timodio dell'apostolo Paolo amén perché attribuendo ad altre religioni e perché questo che di cui il Signore mi ha fatto leggere nel capitolo 2 egregi pastori di tutto il mondo evangelici che mi vantate questo a che si rivolge il Signore alleluia amén vedete che quelli che negli ultimi tempi apostateranno dalla fede dando ascolto a spiriti seduttori a dottrine di demoni non solo soltanto una categoria una sola religione oppure alcune religioni ma sono tutte le religioni messe insieme alleluia alleluia con lo Spirito Santo lo Spirito dice espressamente che negli ultimi tempi alcune apostateranno dalla fede dando ascolto a spiriti seduttori a dottrine di demone per l'ipocrisia di uomini bugiardi marchiate nella propria coscienza i quali vieteranno anche di maritarsi alleluia vedete e qui passa ad altri alleluia che vietano di maritarsi lì parla con quelli vedete che ce n'è per tutti alleluia vietano vieteranno di maritarsi e imporranno di astenersi da cibi che Dio ha creato e infatti fratelli in alcune denominazioni vengono vietate certi cibi vengono vietati certi cibi parlo di cristiani di un nuovo testamento non di un vecchio testamento di un nuovo testamento che sempre tirano fuori un vecchio testamento alleluia che è da abolire i quali vedranno di maritarsi e imporranno di astenersi da cibi che Dio ha creato affinché siano presi col rendimento di grazie